Questo pomeriggio all'Istituto Comprensivo Cordova, che comprende scuole di Eidone e l'Istituto Comprensivo Capuana di Piazza Armerina, inizia il PON Obiettivo C sul potenziamento delle competenze degli alunni. Quattro, i corsi che in maniera speculare sia da Eidone che a Piazza sono stati attivati. Corsi che serviranno per potenziare le competenze nella lingua italiana, nell'informatica e nella lingua inglese degli alunni. Si cercherà anche di far conseguire agli alunni sia la certificazione del Trinity che quella delle CDL. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, la dottoressa Maria Concetta Messina, ha riunito alunni e genitori per spiegare meglio i corsi e chiediamo a lei di cosa si tratta. L'obiettivo principale dei fondi comunitari è quello di potenziare le competenze degli alunni, nel nostro caso per quel che riguarda la conoscenza della lingua madre, e parliamo del modulo linguistico, e poi per quel che riguarda le competenze in lingua inglese e le competenze informatiche. Questo è l'obiettivo principale, ma occorre anche tenere presenti gli obiettivi trasversali dei fondi comunitari. Primo fra tutti quello della socializzazione e della creare un senso di identità e di appartenenza ad una comunità, tant'è vero che insistiamo tanto su quello che riguarda la rivalutazione del patrimonio architettonico-culturale di questa comunità. Infatti parliamo del quattropassi tra Morgantina e la Villa Romana del Casale, che non è un titolo così a caso. Le due scuole si trovano in questo territorio ed è importante partire i nostri alunni da queste conoscenze. Sì, esattamente, tant'è vero che proprio per valorizzare la presenza di due istituzioni che insistono su un territorio così ricco a livello culturale, il momento conclusivo, uno anzi dei momenti conclusivi del modulo, riguarda proprio un gemellaggio, uno scambio all'interno delle due scuole. Dicevo, competenze trasversali a livello di socializzazione, a livello di identità e di senso di appartenenza, ma molto importante è anche la motivazione all'apprendimento, cioè il vedere la scuola come un posto dove è piacevole stare, dove si può apprendere facendo e facendo insieme agli altri e questo, secondo me, dà un valore aggiunto alle iniziative della scuola. Valore aggiunto come quello degli attestati, delle certificazioni che i nostri alunni potranno conseguire. Perché a me piace dire che la nostra scuola lavora oggi per il futuro di questi ragazzi e di questi giovani. Questi fondi europei hanno dato anche la possibilità di attingere per l'acquisto di strumentazioni, per l'attività didattica. L'acquisto riguarda acquisto di materiale a carattere multimediale, come le LIM, come le postazioni per la segreteria, i tablet, visto che andiamo incontro al registro elettronico, e tutta una serie di supporti flessibili che ci permettono di utilizzare al massimo le potenzialità della multimedialità, uscendo da quella che è la prospettiva di un laboratorio inteso in maniera statica, come aula, con banchi, sedie, quindi delle risorse che possono facilmente essere adattate alle esigenze che di giorno in giorno, di volta in volta, si presentano agli alunni. L'Istituto Comprensivo a Cordova Capuana è ricco di strumenti innovativi? Sì, sono strumenti altamente innovativi a disposizione di un personale che ne fa un uso sapiente, ponendo in essere quelle che sono comunemente note come metodologie innovative, l'apprendimento cooperativo, l'apprendere facendo, tutti quei metodi che ci avvicinano molto di più ai ragazzi rispetto alla tradizionale lezione frontale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS